Le Montecatini è stata tra le tantissime città del vecchio continente che ha partecipato all'European Football Week, manifestazione incentrata sul calcio che coinvolge oltre 50.000 giovani atleti con e senza disabilità intellettiva. Cuore dell'evento Val di Nievolino è stato lo stadio Mariotti dove, sul manto verde, si sono ritrovati per giocare al calcio oltre 150 ragazzi degli Special Olympics, l'associazione che organizza eventi e manifestazioni sportive, nata per coinvolgere e valorizzare soprattutto ragazzi con varie forme di disabilità. Allo stadio di Montecatini si sono così trovati i ragazzi dell'alberghiero e delle Einaudi di Pistoia, del Forte di Monsummano, Uzzano, Pievanievole e Pescia. Con loro in campo anche una rappresentativa della nazionale femminile di calcio delle parlamentari, capitanata dalla pistoiese Caterina Bini, che ha giocato contro i ragazzi della Special Olympics. Come giocare tra le mure amiche e guidare questa nazionale? È una soddisfazione, diciamo, nonostante il nostro livello calcistico sia abbastanza imbarazzante, però ci divertiamo molto e soprattutto facciamo delle belle iniziative di sport e di solidarietà che ci aiutano comunque a fare gruppo, a stare in mezzo agli altri, a dare messaggi importanti. Questo è lo spirito più importante e per questo per me oggi è un onore guidare la nazionale, seppure in modo simbolico perché lo scopo è questo. Special Olympics a Montecatini, che cosa vuol dire? Vuol dire crescere culturalmente non solo a Montecatini ma in tutta la provincia di Pistoia perché noi crediamo molto in questo progetto che appunto vede l'inclusione dei ragazzi con difficoltà attraverso lo sport e questo ci farà crescere culturalmente e portare anche tantissimo entusiasmo nelle nostre città. Da parecchio tempo è iniziato questo percorso finché ci arriveremo nel 2018 con i giochi nazionali a Montecatini non solo ma in tutta la Val di Nievole.